Cari fratelli e sorelle del servizio della musica e del canto, buonasera e benvenuti a questa serie di videoclip nei quali cercheremo di parlare del nostro servizio della musica e del canto, quello che tutti noi e tutti voi svolgiamo all'interno delle nostre comunità, sia le comunità parrocchiali, sia le realtà diocesane, quelle regionali e fino anche al servizio internazionale per la nostra comunità. Parleremo di alcuni elementi essenziali del nostro servizio, in questa serie di video approfondiremo i criteri per il discernimento dei canti all'interno proprio della preghiera carismatica e questo è un argomento che sicuramente desta molta attenzione ed è anche davvero importante per tutto il nostro servizio e come premessa infatti è importante ricordare che tutti voi siete parte di un'equip di animazione insieme al pastorale e questo lo vedremo più avanti durante questa serie di video. Per il momento facciamo un preambolo generale, vedete Papa Benedetto XVI, che tutti sappiamo essere un musicista, ha scritto una cosa davvero importante per il nostro servizio, sentite, la musica non è una successione di suoni, essa ha un ritmo e al contempo è coesione e armonia, essa ha una sua struttura ed una sua profondità, la musica è espressione dello spirito, di un luogo interiore della persona creato per tutto ciò che è vero, buono e bello. Non è un caso che spesso la musica accompagni la nostra preghiera, essa fa risuonare i nostri sensi e il nostro animo quando nella preghiera incontriamo Dio. Meraviglioso, ci dice Papa Benedetto che la musica è legata ai nostri sensi, probabilmente agisce in modo diretto sulla nostra emotività e sulla nostra sensibilità, ha particolari doti di aggregazione e permette a chi partecipa sia col canto che con la musica di incontrare Dio in un modo tutto particolare, in quel luogo interiore, dice il Papa, in cui ci sono le cose buone, belle. Ecco, e forse è proprio per questo il grande Sant'Agostino ha detto che chi canta bene prega due volte, è una frase che tutti voi sicuramente conoscerete. Dovendo analizzare questa affermazione è necessario soffermarci sull'aggettivo bene, perché se dovessimo analizzare la frase in un suo significato letterale potremmo capire che il Santo si riferisce ad un'esecuzione bella, armoniosa, melodiosa, intonata, virtuosa, ma ad un occhio spirituale non può sfuggire un'altra sfumatura, sicuramente. Infatti il Santo ce lo fa capire nel commento ai Salmi di Lode, quando dice Quando canti con la voce dovrai ad un certo punto tacere, canta dunque con la vita affinché non debba mai tacere. Capiamo allora che è sì importante una esecuzione melodiosa, armoniosa, intonata, virtuosa, Ma ciò che deve cantare di fronte a Dio prima ancora è la nostra vita, la nostra adesione a Lui, al Vangelo, alla Chiesa Cattolica e, per noi, nella fattispecie, alla comunità Gesù Risorto. A questo punto anche lo zelo nel fare le cose con cura, nel preparare gli incontri di preghiera, i ritiri, facendo le prove con i nostri fratelli nella comunità parrocchiale, Tiocesana, se ci sono le giornate di effusione, i ritiri, regionale e anche il convegno internazionale e tutti gli appuntamenti internazionali, fare le cose con cura, prepararsi, studiarsi le parti musicali, le parti corali per chi è corista, ecco, possono far parte, possono rientrare in quello che il Santo definisce un canto fatto per bene. E questo per noi è proprio l'espressione della nostra adesione a questa chiamata di Dio ad essere animatori, servitori con il canto. Ogni cosa, quindi, vada fatta con cura, con amore e con zelo, in un clima di profonda comunione e questo è l'elemento essenziale per questo e per tutti gli altri servizi, proprio per il cammino della nostra conversione. Detto questo, capiamo quindi, e facendo un passo indietro a quanto dicevamo all'inizio, che non esistono due equip di animazione separata durante la preghiera carismatica, una del canto e una della parola, il pastorale, ma tutte e due insieme, come un'unica equip, portano in una particolare simbiosi e collaborazione spirituale, che poi sviscereremo bene durante il corso di questi video, portano quindi questa comunità lì dove il Signore vuole, come se fosse una barca a vela sospinta dal vento. E continuando ad utilizzare proprio questa analogia, se la barca è la comunità, la vela è la nostra animazione, e il vento che spinge è lo Spirito Santo, noi non possiamo che essere i timonieri, il cui compito è proprio quello di tenere la vela sempre a favore del vento, affinché sia sempre gonfia e possa spingere questa nave, questa nave, questa barca, che è la comunità, lì dove il vento vuole, cioè lo Spirito Santo vuole. Ma questa rotta può essere anche smarrita, e se smarriamo la rotta che succede? Che la vela, cioè la nostra animazione, non essendo più a favore del vento, si sgonfia, la nave non ha più la sua forza di propulsione e quindi si ferma, o peggio ancora, potremmo portare questa barca lì, non dove vuole lo Spirito Santo, ma chissà, su altre rotte, forse dove vogliamo noi. Ecco. Allora, sicuramente, il primo atteggiamento dell'animatore col canto è proprio l'ascolto. L'ascolto affinché la rotta non sia smarrita da una cattiva animazione, da un'errata animazione, o da aspetti che possono essere umani e non spirituali. Teniamo ben presente che il nostro servizio, come tutti i servizi nella comunità parrocchiale, sono sottomessi al pastorale. Perché il pastorale, durante l'animazione, ha una visione più ampia della comunità e quindi può fare un discernimento più consapevole. Cercare il confronto con il pastorale è sicuramente la cosa migliore durante la preghiera, soprattutto in quei momenti in cui si vivono dei momenti di difficoltà e questa nave sembra essersi un po' arenata da qualche parte. Allora, queste due equip, che abbiamo detto non sono due equip separate, ma un'unica equip che collabora, questi due gruppi di animazione, collaborando in stretta simbiosi, possono far sì che questa vela sia sempre a favore del vento e che questa barca abbia sempre la sua forza di propulsione. Ecco, non sottovalutiamo questi aspetti. Non esiste infatti un libro, un vademecum che ci trasmetta, che ci insegni le nozioni di questo servizio come di tutti gli altri servizi, ma alcuni di noi, alcuni di voi hanno maturato nel corso di questi anni un'esperienza importante ed è opportuno trasmettercela, soprattutto per i fratelli che si affacciano adesso per la prima volta a questo servizio in modo tale che l'esperienza possa arricchire tutti e si possa crescere tutti insieme. Questo video termina qui. Nel prossimo parleremo della tipologia dei canti. Entreremo nello specifico e cominceremo a parlare di argomenti proprio interessanti per il nostro servizio. Buonasera a tutti. a tutti. Buonasera